Sotto i cinque cerchi c'è finalmente accordo tra il capo del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach e il primo ministro giapponese Shinzo Abe, che ha dichiarato l'intenzione di ritardare le Olimpiadi di Tokyo di circa un anno. Una decisione storica frutto di un percorso lungo e accidentato all'ombra della pandemia di Covid-19. Il rinvio dei giochi tra le crescenti preoccupazioni per il coronavirus consentirà agli atleti di giocare nelle migliori condizioni e di rendere l'evento sicuro e protetto per gli spettatori, fanno sapere dal Giappone. Il presidente Bach ha dichiarato di essere d'accordo al 100%. Ma costerà moltissimo. Il CIO ha incassato 5,7 miliardi di dollari nell'ultimo ciclo olimpico 2013-2016 e il 73% proveniva dalla vendita dei diritti di trasmissione, mentre il Giappone sta pagando gran parte delle spese per l'hosting dei giochi e probabilmente pagherà la maggior parte dei costi aggiuntivi. Una decisione comunque obbligata anche per togliere dall'incertezza le centinaia di atleti che da anni si allenano per i giochi e che dovranno riprogrammare le loro vite. In realtà i comitati olimpici canadese e australiano avevano già annunciato che non avrebbero inviato squadre se l'evento fosse rimasto in calendario per luglio 2020. Altre nazioni hanno seguito l'esempio costringendo il CIO e gli organizzatori giapponesi ad adeguare i piani.